Ciao a tutti, bentornati a Pillole di Storia, bentornati alla nostra serie dedicata alla storia dei mondiali. Questa serie si era aperta con un auspicio, raccontiamo tutti i mondiali fino al 2022 sperando che nei mondiali del 2022 l'Italia possa fare una gran bella figura. E questo auspicio non ha funzionato perché, come tutti sapete, l'Italia ai mondiali non c'entra nemmeno dato che è stata battuta dalla Macedonia del Nord, che però a volte è stata battuta dal Portogallo quindi neanche la soddisfazione di aver mandato ai mondiali una sorpresa. Ad ogni modo la serie ovviamente continua, qualcuno mi ha chiesto ma la interromperai? No, voglio andare avanti a raccontarla, anche perché voglio raccontare i mondiali del 1954 che sono famosi per tutta una serie di fattori. La comparsa di nuove squadre, a cominciare dalla Germania, che come abbiamo visto fino adesso non aveva mai avuto grossi risultati ai mondiali e che invece, come vedremo, il romperà in questa puntata sulla scena del calcio. Per la prima volta parleremo di scandali, scandalo doping in questo caso, ma anche scandali arbitrali e vedrete di cosa parliamo. E iniziamo a preparare la strada per quella che probabilmente è considerata una delle squadre più forti di tutta la storia dei mondiali, cioè il Brasile di Pelé. Perché nel 1954 il Brasile non aveva ancora Pelé, che aveva 14 anni, quindi non era ovviamente fattibile che partecipasse, ma, ma, iniziamo a preparare quella squadra da sogno, che di qui a 4 anni e poi per i 12 successivi letteralmente travolgerà completamente il mondo. Ma non anticipiamo troppo, partiamo dall'inizio, partiamo a raccontare i mondiali di Svizzera 1954, quindi se non siete ancora iscritti al canale fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati quando esce un nuovo video, poi sigla e partiamo a raccontare. Credo che se dovessi elencare i mondiali più sconosciuti, Svizzera 54 per qualche motivo sarebbe tra questi. È un classico mondiale di cui tutti si dimenticano. 50 in Uruguay, 58 in Svezia, quello magari si ricorda appunto per il Brasile di Pelé, ma il 54, chissà, chissà perché, tanti se lo dimenticano. Eppure è un mondiale importantissimo perché è letteralmente un mondiale di passaggio. Potremmo dire che il 1954, sia nelle qualificazioni che nel gioco dei mondiali, sia allo stesso tempo l'ultimo mondiale della prima fase, quella diciamo un po' più eroica, quella diversa dal calcio di oggi, è il primo mondiale sotto altri aspetti moderno. È l'ultimo mondiale in cui il calcio danubiano, quel calcio danubiano che insieme all'Italia era stato probabilmente il centro del mondo per tanti anni, fa il suo ultimo grande spettacolo. E quell'ultimo grande spettacolo lo porterà a termine l'Ungheria, la squadra d'oro come veniva chiamata, l'Ungheria di Puskas, ma di questo ne parleremo tra poco. Intanto perché i mondiali in Svizzera? Beh, per una volta non ci furono grosse discussioni. La FIFA nel 1954 festeggiava i suoi 50 anni e per questo aveva deciso di assegnare i mondiali proprio allo stato che lo ospitava, cioè la Svizzera. La FIFA ancora oggi infatti ha sede in Svizzera. E la Svizzera la cosa l'aveva accettato. Aveva predisposto stadi in sei città diverse e si era preparata ad accogliere le nazionali. Ora, esattamente come era successo per quasi tutti i mondiali precedenti, anche questa volta fu necessario organizzare delle qualificazioni. Anche perché sulla carta ben 37 nazionali avevano chiesto di partecipare ad un mondiale a cui in realtà ne potevano partecipare solo 16. Di nazionali ritirate ce ne furono pochissime, ma ce ne furono invece tante che furono escluse dalla FIFA. Qualcuno per motivi regolamentari, qualcuno invece perché aveva fatto delle richieste non accettate dalla FIFA, come ad esempio la famosa richiesta, anche in questo caso, dell'India di giocare scalzi, anche se anche qui ci sono grossi dubbi sulla sua origine. Ancora una volta le qualificazioni sono pesantemente spostate verso l'Europa. Ci sono 10 gironi di qualificazioni europei, da cui sarebbero dovuto uscire 11 partecipanti ai mondiali. Tra poco vedremo perché. In realtà anche le squadre medio orientali e del Nord Africa avrebbero partecipato ai gironi europei, quindi erano leggermente allargate. Un gironi di qualificazione asiatico, per un posto. Un gironi di qualificazione sudamericano, per un posto. E un gironi di qualificazione centro-nord americano, sempre per un posto. Ne mancano due. L'avrete notato. Perché ancora una volta, esattamente come in tutti i mondiali precedenti, fatta eccezione per quello del 34 in Italia, siamo stati abbastanza sfortunati, la nazionale vincitrice del mondiale precedente, cioè l'Uruguay, e la nazionale padrona di casa, cioè la Svizzera, furono ammessi d'ufficio. C'è una curiosità. L'Uruguay, fino a questo momento, aveva partecipato esattamente a due mondiali. Quello del 30 e quello del 50. E le aveva vinti tutte e due. Insomma, aveva un rurino di marcia incredibile. E ancora una volta si presentava a questi mondiali tra le nazioni potenzialmente vincitrici. Anche perché la squadra che aveva vinto il mondiale nel 50 era praticamente quasi integramente portata quattro anni più tardi. Erano ancora giocatori nel loro pieno delle forze, non erano ancora decaduti dal punto di vista fisico. Insomma, l'Uruguay si candidava per essere una delle possibili vincitrici alla vittoria finale. In Europa c'era ancora un girone particolare. Ed era quel famoso torneo interbritannico di cui abbiamo già parlato nella puntata del 1950. Inglesi, scozzesi, gallesi e irlandesi del nord, che finalmente si chiamano tra l'altro Irlanda del nord, è finito questo dualismo tra le due Irlande. Infatti erano, si consideravano un po' troppo forti per fare un torneo di qualificazione come tutti gli altri. E quindi ancora una volta si era deciso, e sarà l'ultima volta, che il torneo interbritannico che giocavano fra loro avrebbe rappresentato anche le qualificazioni per i mondiali. Ancora una volta arriva prima l'Inghilterra, ancora una volta arriva prima la Scozia, che però questa volta accetta di partecipare. Non farà come nel 1950 in cui si ritirerà, e quindi la Scozia per la prima volta esordirà e i due nazionali provenienti dalla Gran Bretagna parteciperanno ai mondiali. Sembra un record? Aspettate tra quattro anni, vedrete cosa succederà. Le qualificazioni europee grossomodo vanno come ci si poteva aspettare, non ci sono tantissime sorprese. Qualcuno si aspettava che la Svezia potesse tornare finalmente ai mondiali, magari con una squadra più forte rispetto a quella del 1950. D'altronde la Svezia in quel momento aveva alcuni degli attaccanti migliori del mondo. Abbiamo già parlato nella scorsa puntata, il famoso trio Grenoli che giocava nel Milan e letteralmente terrorizzava le difese d'Italia, ma ancora una volta la Svezia decise di non far partecipare i suoi professionisti e quindi ancora una volta i migliori attaccanti che giocavano in Italia non poterono partecipare al mondiale. E questo, visto con gli occhi di oggi, fa molto strano. La Svezia non si qualificherà. Forse l'unica vera sorpresa delle qualificazioni mondiali europee si ebbe tra la Spagna e la Turchia. Ora, sulla carta tra le due formazioni non ci doveva essere nessuna storia. La Spagna, l'avete visto, era arrivata al girone finale in Brasile 1950. La Turchia si sarebbe dovuta teoricamente qualificare per il mondiale del Brasile, ma poi aveva rinunciato. E in quegli quattro anni nessuno avrebbe mai potuto pensare che in qualche modo la Turchia potesse superare la Spagna. Le cose invece andarono diversamente. La prima partita che si giocò in Spagna vide una netta vittoria da parte degli spagnoli. Quattro a uno. Ma quando si andò a giocare il ritorno in Turchia, le cose andarono diversamente. I turchi segnarono, difesero con coraggio il risultato e alla fine riuscirono a portare a casa anche loro una vittoria. Uno a zero. All'epoca la regola della somma delle reti, che avrebbe portato ovviamente la Spagna ai mondiali con quattro gol fatti e due subiti, non esisteva ancora. Se una squadra vinceva una partita, l'altra ne vinceva un'altra, si doveva rigiocare. E dato che non si poteva giocare né in Spagna né in Turchia, si decise di fare una bella in territorio neutro. E quel territorio neutro fu Roma. Ancora una volta però, la partita non andò come ci si poteva aspettare. Gli spagnoli passarono in vantaggio. I turchi pareggiarono. A loro volta passarono in vantaggio. Gli spagnoli riuscirono a fare due a due, si andò i supplementari, ma quel due a due non si smosse. All'epoca non esistevano i rigori. Rigiocare la partita era impensabile. E quindi si decise che per decidere chi avesse vinto quella partita e sarebbe andato in mondiale ci sarebbe stato un sorteggio. Letteralmente, in un modo molto semplice, venne chiamato uno dei ragazzi che stavano guardando la partita, che si chiamava Luigi Franco Gemma, venne portato in campo, aveva all'epoca circa 14 anni, e vennero messe all'interno della Coppa, scritte peraltro da lui, due bigliettini. Uno con scritto Spagna, uno con scritto Turchia. Rovistò, 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 tiro fuori il bigliettino ed era la Turchia. In questo modo, con un sorteggio, con un sorteggio, la Turchia riuscì ad andare in mondiali. Qualche anno dopo qualcuno iniziò a pensare che forse tirare dei rigori poteva essere un'idea migliore. Ma ve l'ho detto, il calcio è ancora qualcosa di diverso da quello che conosciamo. Ovviamente in Spagna ci furono polemiche a non finire, innanzitutto contro i giocatori, che vennero accusati di non essere riusciti a battere la Turchia, ma poi anche contro l'Italia e contro la FIFA, con l'accusa neanche tanto velata che i turchi stessero molto più simpatici degli spagnoli perché gli spagnoli all'epoca erano sotto la dittatura franchista, e la cosa agli italiani poteva non piacere. Ma in realtà pare che si sia trattato semplicemente di un sorteggio e nulla più. Per quanto riguarda il resto del mondo, ci sono in effetti delle storie da raccontare. In Sud America, innanzitutto, ancora una volta, si qualificò il Brasile. Voi direte, ma l'Argentina? L'Argentina non partecipò ancora una volta alle qualificazioni. Sembra strano con gli occhi di oggi, ma stiamo scoprendo come tutto il Mondiale del 30, in cui erano paese ospitante, arrivarono in semifinale, in realtà l'Argentina ai primi mondiali praticamente quasi mai partecipò. Questo perché c'era la tendenza a creare delle squadre che fossero composti solo da giocatori che giocavano nel campionato argentino, con il risultato che in realtà all'epoca del 54 l'Argentina una squadra forte ce l'aveva, tant'è che due anni prima aveva battuto il Brasile. Ma quella squadra forte, essendo venuta a giocare in Europa, ad esempio Sivori e Angelillo che erano venute a giocare in Italia, ben presto erano stati letteralmente dimenticati dal nazionale, con il risultato che l'Argentina ancora una volta non parteciperà ai mondiali. C'è da dire che, come dicevo nell'introduzione, il Brasile che vincerà il girone e che arriverà ai mondiali era un Brasile stratosferico. Aveva alcuni dei giocatori che guideranno di qui a qualche anno il Brasile a conquistare i suoi mondiali. Probabilmente la stella di quella squadra si chiamava Didi. Era un centrocampista, centrocampista offensivo. Era un giocatore che si diceva già all'epoca che non amasse molto correre, anzi la maglietta tendeva a essere sempre molto asciutta a fine partita, ma che amava a far correre il pallone. Era un giocatore caratterizzato da lanci lunghissimi e di una precisione millimetrica ed era famoso perché tirava le punizioni con uno stile di tiro utilizzando solo tre dita del piede che era chiamato a foglia morta. Uno stile che oggi, o meglio, negli anni successivi utilizzarono ad esempio Giulinio Pernambucano e che poi ha reso famoso in Italia Andrea Pirlo. Beh, lui pare che sia quello che avesse inventato queste punizioni. In realtà il Brasile era letteralmente forte in ogni angolo del campo. In difesa, questo ce ne potremmo quasi stupire, dove giocava un certo Nilton Santos, che in Brasile era chiamato l'enciclopedia del football, perché era considerato uno che dalla difesa riusciva a capire tutto quello che succedeva nel campo, tanto da essere quasi un allenatore aggiunto ed essere lui a dirigere i suoi compagni. Alla destra di Nilton giocava D'Alma Santos, che era un terzino destro e che sarà uno dei primi terzini a correre in avanti, a farsi tutto il campo e a sovrapporsi con le ali in questo gioco di scambi che rendevano le ali del Brasile molto molto veloci. Sull'ala destra, in questi scambi, c'era un uomo che si chiamava Giulinio. Era un'ala destra classica brasiliana, veloce, molto molto tecnica, era famosissimo per le sue finte di corpo con cui riusciva a mandare completamente fuori tempo gli avversari per poi schizzare via e tirare verso la porta. Era considerato all'epoca un giocatore fenomenale, verrà anche lui in Italia, giocherà nella Fiorentina e guiderà la Fiorentina a vincere il suo primo campionato e poi tornerà in Brasile, sapete, la saudade brasiliana. E con lui, quattro anni più tardi, non ci sarà a quel mondiale, perché nel mondiale del 58 sull'ala destra giocherà un certo Garrincia, che è conosciuto come l'ala destra più forte della storia. Ma insomma, anche quel Brasile del 54 non si poteva trattare male. Quindi anche il Brasile andò ai mondiali e è considerato tra le squadre favorite. In Nord America si qualifica al Messico. Gli Stati Uniti non riescono a ripetere i miracoli degli anni precedenti. C'è un'ultima storia da raccontare su queste qualificazioni e riguarda l'Asia. Ora, teoricamente in Asia, come abbiamo già raccontato nella scorsa puntata, all'epoca la squadra più forte era probabilmente l'India, anche se aveva già iniziato una lenta parabola discendente che la porterà di qui a qualche anno a scomparire quasi completamente dalla mappa del calcio asiatico. In realtà, quelle qualificazioni sulla carta si presentarono cinque squadre, ma tre di queste, tra cui l'India stessa, furono escluse dai mondiali. Ne rimasero due, che ovviamente si giocarono la partecipazione in una partita di andata e di ritorno. Una partita che aveva una grossissima valenza, soprattutto politica, perché quelle due nazionali erano il Giappone, che era stato riammesso ai mondiali insieme alla Germania Ovest dopo essere stati esclusi dai 50, e la Corea del Sud. Come immagino tutti voi sappiate, la Corea era stata per anni una colonia giapponese, un territorio da cui i giapponesi avevano cercato letteralmente di estirpare l'essere coreani per sostituirlo proprio con il proprio dominio. La Corea era in una condizione disastrosa. Dopo l'abbandono dei giapponesi si era spaccata in due, si era combattuta la guerra di Corea, che aveva visto coreani del nord appoggiati dai cinesi dell'Unione Sovietica scontrarsi contro i coreani del sud, appoggiati dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, in una lunga guerra che era terminata appena nel 1953. La nazionale di calcio coreana aveva rappresentato un po' uno spirito nazionale, la rinascita di un vero e proprio stato, che si era proprio riunito attorno a quella nazionale. A sorpresa, la partita tra la Corea del nord e il Giappone, la Corea del sud e il Giappone, chiedo scusa, vedrà vincitrice proprio la Corea del sud, che andrà in Giappone a seppellire di gol 5 a 1 il Giappone stesso e poi difenderà il pareggio in casa. Vittoria, pareggio che manderanno ai mondiali la Corea. A quei mondiali la Corea prenderà valanghe di gol in entrambe le partite che giocherà, ma non importava. Avevano battuto il Giappone, avevano dimostrato di essere la nazionale più forte e in qualche modo avevano trovato anche un'unità di Stato. Questo probabilmente ai coreani bastò. E basterà per tanti anni, perché per tanti anni, fino, grosso modo, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, la Corea, in questa sfida a due con il Giappone, sarà quasi sempre la nazionale vincitrice. Ancora oggi il calcio in Corea è importantissimo, anche a livello di club. Ci siamo dimenticati dell'Italia? Ovviamente no, ma ce la teniamo per ultima. L'Italia si trovò a doversi giocare la qualificazione in una partita di andata e ritorno contro l'Egitto. Sulla carta, partita facilissima. Ma c'è da dire che l'Italia all'epoca sicuramente non era uno squadrone. Tra poco ne parleremo. Le partite, le due partite, non andarono benissimo. Andavamo a giocare al Cairo, la prima partita, nel novembre del 53 e per lunghi tratti fummo addirittura in svantaggio. Passò in vantaggio l'Egitto, riuscimmo con molta fatica a pareggiare e solo alla fine riuscimmo a portare a casa un 2-1, che seppur ovviamente ci rendeva favoriti per la qualificazione, dall'altra parte lasciava grossissimi dubbi su quale che fosse la vera forza della nazionale. Dato che la partita di ritorno all'epoca non erano predisposte delle date già organizzate, ma la partita di ritorno doveva essere organizzata dall'Italia, e dato che ci aspettavamo che l'Egitto potesse in qualche modo ancora una volta metterci in difficoltà, si decise di giocarla sporchissima. Tanto che la partita venne organizzata il 23 gennaio del 54 a Milano, dove nevicava. Quindi immaginatevi l'Egitto che si trovò a dover venire in Italia e giocare una partita nella neve. Nonostante questo, l'Egitto ci mise moltissimo in difficoltà, tanto che alla fine del primo tempo eravamo solo 1-1. Nel secondo tempo l'Italia riuscirà a stravolgere il risultato, vincere 4-1, ma quanta fatica per qualificarsi ai mondiali. C'è una curiosità. La partita tra l'Italia e l'Egitto fu la prima partita trasmessa in televisione in Italia, un po' come i mondiali del 54 saranno i primi mondiali trasmessi in televisione. La TV italiana era neonata, era veramente appena nata, e non si era mai trasmessa una partita. Pensate che ci furono molte discussioni su come trasmettere quella partita, tanto che alla fine si decise non di dare la partita intera, ma praticamente di fare una specie di spezzatino, darne solo delle parti, quelle considerate più importanti, come fosse un lungo riassunto della partita stessa. A commentare quella partita c'erano tre commentatori, di cui uno diventerà ben presto molto famoso perché si chiamava Nicolo Carosio. Ve lo lascio come curiosità. La sua voce molto particolare è sicuramente uno dei sottofondi delle partite degli italiani per molto... questo lo è stato per molti, molti anni. Ad ogni modo, com'era quell'Italia? Ve l'ho detto, era un'Italia complessa, era un'Italia frutto di un campionato che in quel momento era in evoluzione. Un campionato che da due anni veniva vinto dall'Inter, che aveva improntato il suo schema sul classico schema all'italiana, quindi catenaccio e contropiede, ma che nell'ultimo campionato, proprio quello appena finito, nel 54, aveva cercato in qualche modo di evolvere verso un calcio più offensivo, con il risultato di aver vinto nuovamente il campionato, ma solo alla penultima giornata, dopo un lungo scontro con la Juventus. Come vi dicevo, dal punto di vista offensivo, le squadre che in Italia facevano meraviglia erano altre. Era ad esempio il Milan, del trio Grenoli, che però c'era un problema, erano svedesi, mentre l'Italia non aveva grandissimi attaccanti da poter schierare. Il capitano, e probabilmente la punta principale, era ancora Giampiero Boniperti, capitano della Juventus e appunto capitano dell'Italia. A dirigere però l'Italia, dopo il disastro del 1950, era stato chiamato un allenatore straniero, anzi, un allenatore ungherese. Si chiamava Lajos Seisler, ed era un allenatore che aveva allenato il Milan, aveva allenato il Padova, ed era considerato un allenatore amante del bel gioco. Insomma, quelle suggestioni che in Italia abbiamo spesso, quando ci sembra che giochiamo male, vogliamo trovare qualcuno che ci insegni a giocare meglio, e in questo caso avevamo chiamato un ungherese, che aveva cercato in effetti di dare un gioco molto più offensivo e aggressivo all'Italia, come aveva fatto con il Milan, ma non solo all'Italia mancavano gli svedesi, ma soprattutto tutto il resto della sua squadra che veniva da altre formazioni, era abituato a giocare in un modo molto diverso. Per cercare in qualche modo di mediare tra queste due anime, era stata chiamata una commissione tecnica di tre ex giocatori, tra cui Meazza e schiavio, i quali avevano cercato in qualche modo di risolvere queste controversie. Controversie che come vedremo in realtà non si risolveranno. C'era un altro grosso problema, e cioè che all'interno della stessa federazione c'erano tutta una serie di persone che spingevano chi verso l'una, chi verso l'altra squadra. Ad esempio, per qualificarsi contro l'Egitto, l'allenatore aveva deciso di affidarsi dal punto di vista difensivo al blocco della Fiorentina, squadra che all'epoca era di alta classifica, di cui a qualche anno vincerà anche il primo scudetto, era considerato uno dei migliori blocchi difensivi in Italia. Il problema è che l'allora segretario della FGC che si chiamava Alberto Valentini, dopo la qualificazione acciuffata con tanta fatica, aveva iniziato a spingere perché quel blocco venisse sostituito dal blocco dell'Inter, che all'epoca appunto era campione d'Italia, creando non solo una forte competizione interna, ma anche grossi problemi nei rapporti tra la nostra difesa e il resto del campo, perché se la difesa della Fiorentina era sì catenacciara, ma abbastanza propositiva sui terzini e questo permetteva al gioco di avanzare anche da quella parte, la difesa dell'Inter era più abituata a giocare chiusa, a lasciare che fosse il centrocampo a portare avanti la palla e questo ovviamente permetteva, obbligava la squadra a giocare in modi completamente diversi e non lo si poteva cambiare ogni momento. Ad ogni modo, finalmente, dopo tanta fatica, 16 squadre riuscirono a qualificarsi per i mondiali. Vennero organizzati quattro gironi, per la prima volta dei gironi che sembravano quasi ben equilibrati, con quattro squadre per ogni girone e a ogni girone sarebbero passate le prime due formazioni. Messo così, sembra quasi aver anticipato i mondiali moderni. In realtà c'è qualcosa di un pochettino diverso perché, curiosamente, le squadre invece di giocare tre partite ed è ovvio se pensate un girone con quattro squadre ogni squadra per giocare contro le altre gioca tre partite ebbene, in questo mondiale le squadre invece di giocare tre partite a testa ne avrebbero giocate solo due. Perché? Perché si era deciso che le squadre sarebbero state messe all'interno del girone in ordine di forza di quello che si presumeva essere la loro forza dal punto di vista calcistico e la prima e la seconda squadra non si sarebbero incontrate fra di loro allo stesso modo la terza e la quarta squadra non si sarebbero scontrate quindi ogni squadra avrebbe giocato solamente due partite la prima contro la terza e la quarta la seconda contro la terza e la quarta la terza contro la prima e la seconda e la quarta contro la prima e la seconda è un po' complesso devo essere sincero non capisco il razionale di questa cosa ma non importa questa fu la decisione l'Italia si trovò quindi a giocare in un girone che comprendeva l'Inghilterra che ci faceva una grande paura ma con cui non avremmo giocato perché l'Inghilterra era considerata la più forte noi i secondi e quindi non ci saremmo scontrati fra di noi i padroni di casa della Svizzera terza squadra e poi come ultimo il Belgio ora la prima partita che giocammo fu contro la Svizzera sapete che i padroni di casa hanno sempre un occhio di favore da parte della FIFA anche al giorno d'oggi perché in qualche modo portare avanti i padroni di casa aiuta a tenere acceso l'entusiasmo per il mondiale ma diciamo che all'epoca questo aiuto era decisamente più visibile arbitro della competizione infatti fu un brasiliano che si chiamava Marco Gonsalves Vianna e Vianna era già da qualche tempo che si trovava in Svizzera ma la particolarità era che il suo viaggio dal Brasile alla Svizzera era stato pagato proprio dalla Federazione Svizzera che gli aveva pagato il soggiorno soggiorno in cui peraltro Vianna aveva soggiornato insieme alla squadra svizzera creando anche un certo cameratismo e qualcuno diceva che non contenti di tutto questo la federazione aveva deciso di fargli dei bei regali regali che ovviamente erano solo per ringraziarlo di aver voluto partecipare ai mondiali ma che per qualcuno potevano essere forse un pelo di corruzione Vianna era un arbitro particolare non era molto alto era anche bello grosso bello robusto ma era considerato un vero e proprio duro uno di quelli che dirigevano in Sud America le partite con pugno di ferro quando iniziò la partita tra Svizzera e Italia ovviamente sulla carta l'Italia era favorita la Svizzera aveva qualche buon giocatore tra cui Ballaman che era un attaccante e che sarà colui che segnerà il gol dell'1-0 Svizzero ma in realtà oltre che essere una squadra molto forte dal punto di vista fisico non aveva grosse doti dal punto di vista tecnico in Italia come vi dicevo c'erano stati gli scontri tra i due blocchi alla fine a sorpresa l'allenatore aveva deciso di mettere da parte il blocco della Fiorentina e giocare con il blocco dell'Inter in difesa la squadra però dopo un inizio abbastanza stentato e qua non si poteva dare la colpa al viaggio perché tra l'Italia e la Svizzera ovviamente la distanza era brevissima dopo un inizio un po' stentato la squadra però iniziò a macinare gioco e prima della fine del primo tempo con Boniperti riuscì a portarsi in vantaggio a questo punto però succede il finimondo l'arbitro nel secondo tempo inizia letteralmente a fischiare a senso unico inizia a fermare il gioco impedisce all'Italia di avanzare e quando improvvisamente Benito Lorenzi detto veleno per quanto fosse abile in area di rigore attaccante dell'Inter riuscì a segnare con un bellissimo tiro su un tiro rimbalzato dalla difesa svizzera l'arbitro annullò il gol immediatamente i giocatori dell'Italia lo circondarono e l'arbitro come prima cosa disse che lo aveva annullato perché Benito Lorenzi si trovava in fuorigioco c'era un problema Lorenzi non aveva solo davanti il portiere aveva davanti anche due difensori svizzeri che si trovavano sulla linea di porta quindi era impossibile che fosse in fuorigioco perché c'erano tre giocatori oltre lui che erano divisivamente oltre lui l'arbitro si rese conto che l'aveva fatto un po' grossa e quindi dopo accese discussioni cambiò idea e disse che il gol l'aveva annullato perché Lorenzi nel dribblare l'ultimo difensore aveva fatto fallo un cambio che sarà raccontato da tutti i protagonisti e che ovviamente non farà che accendere gli animi l'Italia continuò ad attaccare continuò a cercare il vantaggio continuò a essere fermato più dall'arbitro che dagli avversari fino a quando ad un certo punto in un contropiede gli svizzeri riuscirono a segnare c'era un problema quel contropiede era iniziato con un fallo platealissimo a centrocampo che tutti avevano visto e che aveva praticamente costretto l'Italia a rincorrere l'attaccante che si era involato verso il gol l'arbitro che fino a quel momento aveva fischiato qualunque cosa quel fallo non lo vide il risultato fu che appena finì la partita con il 2-1 ovviamente per la Svizzera i giocatori italiani circondarono l'arbitro e arrivarono pensate addirittura a prenderlo a calci ci sono le immagini dei giocatori italiani che prendono a calci l'arbitro letteralmente arrivandogli da dietro e colpendolo i tifosi italiani in massima parte immigrati svizzera vennero giù dalle gradinate iniziarono a picchiarsi con i poliziotti svizzeri insomma un caos generale che non sarà l'ultima volta che verrà provocato da una partita dell'Italia è ovvio che quella partita creò un putiferio creò un putiferio ovviamente nei confronti dell'arbitro che peraltro di lì a poco sarà cacciato dai mondiali per una serie di commenti non proprio corretti dei confronti di un avversario del Brasile e che sarà poi cacciato persino dalla federcalcio brasiliana perché scoperto ad essere corrotto per arbitrare delle partite qualcuno sta pensando a Moreno e alla Corea un giorno ci arriveremo a raccontarlo ma un po' ricorda quello in effetti ad ogni modo ovviamente le polemiche non furono su quello ma furono anche sulla squadra che era stata scelta e per questo per la seconda partita giocata col Belgio si decise di cambiare completamente sostituire il blocco dell'Inter con il blocco della Fiorentina e dare all'Italia un calcio decisamente diverso davanti l'Italia aveva perso Boniperti che si era preso un bruttissimo fallo sulla caviglia da uno svizzero e che non giocherà le due partite successive ma nonostante questo grazie a un gioco decisamente migliore riusciremo a battere il Belgio 4 a 1 dato che la Svizzera invece aveva perso contro l'Inghilterra le due squadre si trovarono su due punti ciascuna all'epoca si davano due punti per la vittoria e per questo fu necessario giocare uno spareggio forse sarebbe bastato confermare la squadra che aveva giocato l'ultima partita ma ancora una volta nacquero tutta una serie di sconti tra l'allenatore la federazione italiana una serie di persone che ognuno ovviamente propugnava i propri giocatori il risultato fu che quello spareggio in Italia lo giocò con una formazione del tutto ibrida in cui vennero buttati dentro giocatori della Juve della Roma mischiando i vari blocchi e creando un caos totale certo accusammo gli svizzeri di correre un po' troppo si parlò all'epoca di doping che gli svizzeri che come noi avevano giocato pochi giorni prima corsero per 90 minuti praticamente ininterrotti ma la realtà è che l'Italia in realtà si fece assolutamente male da sola e il risultato fu che quello spareggio vide gli svizzeri vincere per 4 a 1 mandandoci ovviamente a casa l'Italia rientrò molto mestamente appena superò il confine tra la Svizzera e l'Italia iniziò ad essere insultata letteralmente ad ogni stazione vennero lanciati ortaggi contro il treno che li portava indietro sui giornali uscirono titoloni sul fallimento italiano e anche la stessa politica a cominciare da Giulio Andreotti che è sempre stato un grosso appassionato di calcio e che si occupò poi l'anno dopo come ministro dell'interno della cosa la politica cercò in qualche modo di intervenire con le famose riforme politiche del calcio iniziando con il divieto di avere troppi stranieri nelle squadre si portò ad un solo straniero una politica che inizierà la cosiddetta storia degli oriundi cioè di questi italiani riportati in Italia cioè giocatori stranieri a cui però si trovava in qualche modo un antenato italiano di modo da poterli spacciare come italiani che saranno la storia del calcio italiano negli anni successivi ne parleremo poi nella prossima puntata ad ogni modo da quel girone passeranno Inghilterra e Svizzera e noi ce ne torneremo messamente a casa tra gli altri gironi quello probabilmente più interessante era quello che aveva al suo interno l'Ungheria la Germania Ovest la Turchia e la Corea del Sud non tanto interessante per il risultato sapevano tutti che la Turchia fosse una squadra troppo debole per poter sfidare le altre due nazionali nonostante anche la Germania non fosse all'epoca molto quotata e la Corea del Sud come vi dicevo prese goleade praticamente da chiunque ma era un girone interessante perché tutti all'epoca volevano veder giocare l'Ungheria l'Ungheria nel 1954 era una squadra talmente forte da essere chiamata la squadra d'oro aveva vinto le Olimpiadi del 52 ad Helsinki nel 1953 aveva vinto la Coppa Internazionale sapete quella coppa che si giocava tra le nazioni danubiane e l'Italia stravincendola ed aveva addirittura battuto in due partite di andata e ritorno giocate prima in Inghilterra e poi in Ungheria la formazione inglese all'andata in Inghilterra era finita addirittura 6 a 3 per l'Ungheria ma chi vide quella partita disse che poteva finire tranquillamente 15 a 3 tanto il gioco dell'Ungheria era stato superiore a quello degli inglesi in cosa erano superiori gli ungheresi? sulla carta giocavano ancora con un sistema molto molto classico la WM che vi abbiamo fatto vedere in cui in attacco oltre alle due ali si trovava una prima punta e due che molto vicini alla prima punta lo supportavano insomma uno stile di gioco che era abbastanza classico c'era però una differenza perché gli ungheresi avevano introdotto una maggior movimento tra queste tre punte perché? perché la prima punta che si chiamava i deguti in realtà giocava praticamente come un falso nueve per intenderci quindi pur essendo formalmente quello più avanti nella costruzione del gioco poi tendeva a rientrare a giocare di sponda per permettere alle altre due dietro di lui alle altre due punte dietro di lui di essere loro a presentarsi in zona gold con il risultato da rendere molto complicato alle difese difendere perché semplicemente si trovavano sempre in inferiorità numerica abituati a difendersi da un solo giocatore si trovavano a scontrarsi contro due questo era considerato il grande grande trucco tra virgolette la grande novità introdotta dall'Ungheria in realtà c'era un'altra un'altra cosa che quelle due punte erano due giocatori fenomenali si trattava innanzitutto di Feren Puskas Puskas che giocherà poi in Spagna renderà grande il Real Madrid era all'epoca considerato il miglior giocatore del mondo era basso un po' tarchiatello mancino ma con il pallone sapeva fare meraviglie sembrava che nonostante le sue gambe un po' più corte di quelle degli altri potesse superare tutti senza nessun problema qualcuno l'ha paragonato a Maradona e in effetti qualche somiglianza potremmo trovarla il suo compagno di reparto si chiamava Sandor Kocis ed era invece una prima punta classica fatto giocare indietro per poter sfruttare la sua velocità con cui si infilava nelle difese avversarie riceveva il passaggio da Puskas e andava in gol quando non ci riusciva gli bastava ripassare la palla Puskas che con il suo mancino inventava dei tiri incredibili segnando erano giocatori che giocavano insieme in nazionale ma in realtà giocavano insieme anche in una squadra la famosa ÖNVED che era una squadra ungherese ovviamente che era la squadra dell'esercito ungherese e che all'epoca era probabilmente una delle squadre di club più forti del mondo dall'ÖNVED alla squadra d'oro per cercare di vincere quel mondiale come vi dicevo l'unica avversaria in quel girone dell'Ungheria era la Germania Ovest anche la Germania come il Giappone era stata riammessa a giocare le qualificazioni dopo essere stata pare esclusa nel 1950 ma in realtà a differenza del Giappone quelle qualificazioni erano riuscite a passare erano riuscite ad arrivare ai mondiali anche se in realtà nessuno si aspettava che potesse in qualche modo riuscire a portare a casa qualche risultato all'epoca in Germania non esisteva un vero e proprio campionato nazionale e non esisterà ancora per molti anni c'erano varie leghe regionali da cui le formazioni migliori poi si arrivavano a scontrare in un ultimo gironcino per decidere chi fosse il campione nazionale il risultato era che per assemblare quella partita Sepp Eisenberg che era stato allenatore della nazionale anche prima della seconda guerra mondiale che sarà riconfermato dovette letteralmente andare a scavare in ognuna delle leghe all'epoca ovviamente non c'era internet non c'era la televisione se volevi vedere un giocatore dovevi fisicamente andare a vedere una partita in cui lui giocava dovette andare a scavare letteralmente nelle varie divisioni locali per riuscire a trovare i giocatori migliori e riuscire in qualche modo ad assemblare una squadra Alla fine Herberger riuscì a creare una buona formazione Il capitano e faro di quella squadra si chiamava Fritz Walter era già stato un buon giocatore prima della seconda guerra mondiale ma negli anni successivi in queste leghe che faticosamente tornavano a giocare a calcio era ben prezzo diventato il giocatore migliore di tutti Aveva una particolarità aveva paura di volare era stato soldato era stato portato in un campo di concentramento forse per questo aveva paura di utilizzare l'aereo e quindi quando si doveva spostare lo faceva sempre con mezzi di terra dovendo giocare in Svizzera la cosa non rappresentò un grosso problema Walter era una punta di raccordo una seconda punta molto tecnico molto abile nel gioco del pallone che ispirava la vera prima punta della Germania che si chiamava Helmut Rahn che era la classica prima punta tedesca pesante non proprio altissimo ma comunque molto forte fisicamente che entrava letteralmente di potenza tra le difese avversarie ricevendo proprio il lancio di Walter e buttava dentro il pallone su quest'asse e su una squadra di volenterosi molto spesso forti fisicamente non abilissimi dal punto di vista tecnico la Germania era riuscita a costruire una squadra e a presentarsi ai mondiali la prima partita che giocarono però con l'Ungheria fu un disastro perché nel girone iniziale dei mondiali l'Ungheria riuscì a battere la Germania addirittura per 8 a 3 con i tedeschi che letteralmente non sembravano essere in nessun modo in grado di fermare quelle 7 ungheresi tanto che l'unico risultato che riuscirono a ottenere oltre alla valanga di gol fu di infortunare Puskas che ricevette un bruttissimo colpo a una gamba e che non riuscirà a giocare le due partite successive e ritornerà a giocare solamente in finale alla fine 8 squadre riuscirono ad approdare ai quarti di finale innanzitutto come vi dicevo ci approdò la Svizzera che aveva battuto noi e che non riuscì a ripetere il miracolo andando a giocare contro l'Austria in una partita che finì 7 a 5 per l'Austria con accuse peraltro di doping per entrambe le squadre quindi immaginatevi il caos che ne venne fuori e che ancora oggi è la partita con più gol segnati in tutta la storia dei mondiali ben 12 gol in una sola partita 7 a 5 provate a immaginare le partite di cartello però erano altre due innanzitutto c'era Uruguay Inghilterra l'Uruguay come sapete si presentava da campione in carica aveva passato tranquillamente il suo girone era arrivato senza problemi ai quarti di finale e l'Inghilterra a sua volta invece aveva passato il girone quello dell'Italia battendo senza problemi sia la Svizzera che il Belgio si trattava di due formazioni che in qualche modo avevano imparato l'una dall'altra anzi gli uruguayani avevano in qualche modo imparato anche il loro gioco del calcio proprio dagli inglesi e ancora una volta riusciranno a dimostrare di poter controbattere al gioco inglese senza problemi gli uruguayani ogni volta che l'Inghilterra attaccava non si scomponevano ma esattamente come avevano vinto il mondiale quattro anni prima ancora una volta basarono tutta la loro partita su una grossa forza mentale su molta garra come si dice sull'abilità di rallentare i tempi gestire i tempi della partita gestire le folate di attacco da parte dell'Inghilterra e ripartire in contropiede l'Uruguay come vi dicevo non era molto cambiata dal punto di vista dei giocatori Varela ancora dirigeva la squadra dalla difesa riusciva meglio dal centrocampo difensivo forse un po' più preciso come mediano ancora una volta l'attacco era semplicemente stellare il risultato sarà un 4 a 2 che vedrà ancora una volta i maestri inglesi tornare a casa senza aver cavato un ragno dal buco e non caveranno un ragno dal buco ancora per 12 anni e che vedrà l'Uruguay al suo terzo mondiale raggiungere per la terza volta almeno le semifinali l'altra partita assolutamente di cartello di questi quarti era Brasile-Ungheria si aspettavano tutti una partita incredibile da una parte c'era la nazionale europea che più di tutte giocava al calcio più bello aggressivo fantasioso arioso veloce dall'altra parte c'erano i brasiliani che a loro volta erano considerati fautori di un calcio che avrebbe potuto stravolgere il mondo peccato che la partita sarà ricordata non come la più bella dei mondiali ma come la più fallosa ora inizialmente gli ungheresi passarono rapidamente in vantaggio 1-0 2-0 iniziando a intavolare la partita verso la loro direzione a questo punto i brasiliani persero letteralmente la testa come spesso capita l'abbiamo visto tante volte lo vedremo tante volte nei mondiali quando i brasiliani vanno sotto si sentono in difficoltà iniziano a diventare aggressivi e anche in questo caso successe la stessa cosa iniziarono a esserci scontri fallacci entratacce entratacce a cui gli ungheresi iniziarono a rispondere allo stesso modo anche loro iniziando a menare come fabbri e l'arbitro inglese che inizialmente aveva pensato di dirigere la partita nell'inglese quindi limitando il più possibile l'uso dei cartellini ad un certo punto si trovò costretto ad espellere un sacco di giocatori per cercare di riportare in qualche modo la calma c'è un articolo bellissimo di Vittorio Pozzo che trovate su internet in cui racconta proprio questa gigantesca rissa racconta di come in questa rissa si fosse trovato il mediano all'ora dell'Ungheria che si chiamava Bokksic che non è Bokksic è quello che poi giocherà in Italia tra molti anni ma è un altro all'epoca giocava mediano il quale Pozzo dice che all'epoca era anche un deputato dicendo che è stato il primo deputato espulso ai mondiali questa cosa non ve la posso confermare perché su qualunque altra pagina che fosse deputato non viene citato ma è una curiosità i brasiliani cercheranno di rifarsi sotto ma ogni volta l'Ungheria li rintuzzerà e alla fine la partita finirà 4 a 2 alla fine della partita la rissa però non si arrestò tra brasiliani da una parte ungheresi dall'altra polizia svizzera in mezzo gli scontri continueranno addirittura Pushkas come vi dicevo non giocò la partita perché infortunato entrò in campo e si mise a menare anche lui insomma uno spettacolo del tutto indegno l'arbitro dirà di via qualche anno che se avesse usato un metro diverso quella partita sarebbe probabilmente stata interrotta per le troppe espulsioni avrebbe dovuto espellere 4 5 per ogni squadra e in effetti fu una certa vergogna che la federazione internazionale forse per non rovinare le partite successive decise di non intervenire ma di lasciare le singole federazioni a decidere come punire i loro giocatori ovviamente non ci furono grosse punizioni e l'Ungheria poté giocare al gran completo semifinale e finale si arriva così alle semifinali curiosamente in Italia nelle due semifinali ne venne trasmessa una sola quella che vide la Germania battere per 6 a 1 l'Austria una partita senza nessuna storia probabilmente anche senza nessun interesse non venne invece trasmessa la partita che Gianni Brera che è considerato uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani di ogni tempo considerava e continuò a considerare fino alla fine dei suoi giorni la partita più bella che lui avesse mai visto a un mondiale si trattava di Uruguay Ungheria Brera diceva che quella partita e lo dirà veramente ogni volta che gli veniva chiesto per lui era la summa del calcio e fu proprio quella partita lui disse a farlo innamorare del calcio di come questo possa essere vario e interpretato in maniera diversa da ogni popolo lui diceva che ogni popolo gioca a calcio a suo modo e sarà anche per questo che per tanti anni sarà lui a propugnare l'importanza per gli italiani di giocare con il catenaccio ad ogni modo Uruguay e Ungheria entrarono in campo ovviamente con due stili di gioco molto diversi l'Ungheria giocava questo calcio vi dicevo offensivo all'attacco sempre bello da vedere votato a fare un gol sempre in più degli avversari anche a costo di prenderne uno dall'altra parte l'Uruguay faceva questo calcio ragionato molto mentale cercando di controllare la partita ora inizialmente non ci riuscirono a controllare la partita l'Uruguay come sempre aveva iniziato ai 100 all'ora e dopo pochi minuti si era già portato in vantaggio di due gol 2 a 0 Breva dirà che nonostante questo l'Uruguay cercò per tutto il tempo di difendere lo svantaggio nonostante fossero sotto di due gol a 0 infatti non si disunirono sarà un termine che utilizziamo molto recentemente ma continuarono a macinare il loro gioco lasciarono venire avanti gli ungheresi lentamente gli rubavano palle ripartivano in contropiede questo cambio di gioco iniziò a far innervosire gli ungheresi che iniziavano a spengere sempre più energie non riuscivano ad aver ragione degli uruguagi e permise all'Uruguay lentamente di mettere fuori la testa ad un certo punto la cosa li premiò 2 a 1 e poi anche 2 a 2 il pareggio e quasi alla fine del secondo tempo regolamentare l'Uruguay arrivò addirittura ad un passo dalla vittoria con Schiaffino ancora la prima punta ancora il giocatore forse più importante dell'Uruguay che lanciò un pallone velenosissimo che però si stampò sul palo quando iniziarono i tempi supplementari le due squadre erano allo sfinimento anche se sembrava che fosse l'Uruguay quella che ne aveva di più ma l'Ungheria riuscì a trovare delle energie del tutto inaspettate tornò ad attaccare tornò a presentarsi davanti al portiere avversario e alla fine riuscì ancora una volta a segnare 3-2 4-2 anche se furono due tiri non del tutto imparabili su cui il portiere fece due mezze papere l'Uruguay ancora una volta continuò il suo gioco cercò di ripartire arrivò anche a un passo da segnare il 4-3 questa volta furono sfortunati perché ci pensò il palo a deviare il tiro e chiusero la partita persa per 4-2 con grande dignità per la prima volta l'Uruguay non riusciva a raggiungere la finale di un mondiale a cui partecipava ovviamente non lo sapeva ancora nessuno ma da questo momento una delle squadre che avevano più dominato il calcio fino a quel momento in mondiali inizierà una parabola discendente ma lo vedremo meglio nelle prossime puntate ma aveva chiuso la sua parabola ascendente con quella che appunto Gianni Brera ricorderà essere una partita fenomenale e così la finale che si sarebbe giocata a Berna curiosamente lo stesso posto dove si era giocata la partita tra Brasile e Ungheria che è ricordata come la battaglia di Berna ebbene a Berna si sarebbe giocata anche la finale una finale che esattamente come nei gironi avrebbe visto scontrarsi da una parte la Germania dall'altra l'Ungheria sulla carta queste due formazioni sembravano non avere nessun modo per potersi realmente scontrare l'Ungheria aveva dimostrato di essere superiore per tutto il mondiale aveva giocato delle partite in condizioni difficili e le aveva vinte in quarti alle semifinali aveva asfaltato la Germania nei gironi insomma che cosa poteva fermare una nazionale del genere una nazionale in cui peraltro per la finale rientrò anche Puskas seppure un po' infortunato beh qualcuno dice che a fermare quell'Ungheria ci avrebbe pensato il doping come iniziò questa partita? beh se avete imparato qualcosa da questi mondiali è che l'Ungheria iniziava le partite sempre davanti di due gol e ancora una volta andò così pronti via l'Ungheria fa un gol si riparte dopo quattro minuti ne fa un altro dopo dieci minuti l'Ungheria è già avanti due a zero la Germania però non ci sta la Germania riparte subito con il suo calcio complice anche qualche insicurezza difensiva da parte dell'Ungheria al diciottesimo minuto la partita è già sul due a due diciotto minuti quattro gol segnati due per parte l'Ungheria accusa il colpo nei minuti successivi continua a giocare continua a proporre calcio ma la Germania sembra essere infaticabile i suoi giocatori corrono come dei dannati e se gli ungheresi sono molto tecnici e fanno il loro gioco di passaggi veloci per arrivare in porta i tedeschi sembrano riuscire a rincorrere letteralmente ogni giocatore e lo faranno per tutta la partita la Germania dirà che erano ovviamente mossi dal sacro fuoco di giocare quella finale molti diranno che invece quel sacro fuoco era un po' più chimico e arrivava dal doping ovviamente non c'è nessuna certezza il risultato è che man mano che passavano i minuti l'Ungheria compice anche le due partite che aveva giocato precedentemente che erano state così faticose iniziò letteralmente a non farcela più mentre i tedeschi continuavano a correre ad avanzare sempre di più fino a quando Helmut Rahn riuscirà a segnare i 3 a 2 gli ungheresi ci proveranno a pareggiare ci proveranno con Puskas che però vedrà il gol annullato per fuorigioco ci proveranno fino all'ultimo minuto ma un po' di sfortuna e tanta corsa da parte dei tedeschi glielo impediranno in quella che passò alla storia come il miracolo di Berna la Germania Ovest l'ultima delle nazionali che qualcuno si sarebbe potuto aspettare riuscì a portare a casa la vittoria l'Ungheria era stata indubbiamente la nazionale più bella e più forte del mondiale e la formazione migliore con i migliori giocatori in cui tantissimi ungheresi e pochi tedeschi entrarono lo dimostrò apertamente eppure si era fermata letteralmente ad un passo dall'obiettivo un obiettivo che avrebbe probabilmente rappresentato il culmine di quella squadra fenomenale qualcuno diceva che nel 58 l'Ungheria ci avrebbe potuto riprovare ma le cose non andarono così perché due anni più tardi l'Ungheria sarà invasa dall'Unione Sovietica dopo aver cercato di liberalizzare il suo sistema politico e molti di quei giocatori molti dei giocatori della squadra d'oro molti dei giocatori dell'Unwed a cominciare da Pushkas da Kochis e da molti altri fuggirono dall'Ungheria e si sparsero per il resto dell'Europa abbandonando non solo la squadra di club ma anche la nazionale che chiuderà in quel modo questa epopea meravigliosa curiosamente Fritz Walter sarà uno di quelli che maggiormente aiuterà questi giocatori a fuggire e a trovare delle nuove squadre la maggior parte di loro almeno i più forti andranno a giocare in Spagna si chiude così tra tante polemiche questo mondiale una buona parte della formazione tedesca che vinse quel mondiale nei mesi successivi sarà colpita da un'epatite di cui accuseranno l'alimentazione che era stata fornita dall'albergo svizzero creando tutta una serie di polemiche anche se molti diranno che quell'epatite in realtà fu causata proprio dall'abuso di farmaci che erano stati somministrati loro in effetti la Germania nelle partite successive perse molte partite ma c'è da dire che appunto la maggior parte dei loro giocatori migliori non poter giocarle e in effetti come vedremo tra quattro anni non giocherà un brutto mondiale quindi questo in qualche modo potrebbe deporre per il fatto che in effetti la squadra fosse molto forte da questo mondiale usciranno i brasiliani che ripeto rivedremo tra quattro anni usciranno gli ungheresi e il calcio il calcio cambierà mi lascio un'ultima curiosità abbiamo quasi iniziato parlando della Turchia che era arrivata al mondiale per un sorteggio bene quella Turchia era allenata da un italiano che si chiamava Puppo e che proprio da quella vittoria dell'aver portato la Turchia ai mondiali peraltro all'epoca allenava proprio in Turchia allenava nel Besiktas che aveva portato a vincere due campionati turco il Turchi si farà una certa nomea arriverà in Italia allenerà la Juventus non una delle migliori Juventus difatti sarà chiamata la Juventus dei Puppanti e poi si sposterà ad allenare in Spagna allenando per un anno anche il Barcellona lentamente lentamente il calcio delle nazionalità in cui ognuno gioca nel proprio paese e gioca per la nazionale del proprio paese addirittura alcuni giocatori abbiamo visto che quando si spostavano a giocare in un altro paese cambiavano anche la nazionale pensate ad esempio agli oriundi argentini che giocarono per l'Italia nel 34 nel 38 bene questo calcio sta lentamente iniziando a lasciare il posto ad un calcio decisamente più internazionale in questo caso un allenatore lentamente inizieranno a essere i giocatori a spostarsi d'altronde ve l'ho detto all'inizio in 1954 è un mondiale di passaggio l'ultimo mondiale dell'epoca iniziale della FIFA è il primo mondiale della modernità ma vedremo questa evoluzione dalla prossima puntata che come vedremo e ce ne parlerà per parecchie puntate saranno le puntate del grande Brasile di Pere ma non anticipiamo troppo io mi fermo qua è stata già una puntata abbastanza lunga spero sia stata anche seguibile noi ci vediamo presto se volete rivedere questa pillola le altre di questa serie in descrizione c'è ovviamente la playlist potete rivederla qua su youtube potete risentirla sul nostro podcast anche quello in descrizione potete contattarmi per propormi delle pillole sui nostri social facebook instagram telegram c'è discord non lo usiamo tantissimo ma c'è la mail io vi ricordo importantissimo domani faremo 12 ore di diretta da mezzogiorno a mezzanotte per cercare di supportare con la nostra raccolta fondi la croce rossa italiana per l'aiuto all'ucraina quindi venite a unirvi a noi parleremo di cose serie giocheremo ci saranno tantissimi ospiti perché io dico parlo al plurale perché in realtà sarà ospitata sul canale della biblioteca di Alessandria ma è organizzata da tantissimi youtuber li scoprirete ovviamente domani quindi non mancate veniteci a seguire e fate se possibile una donazione che sicuramente aiuterà e per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso a me sta andando via la voce è stata una pillola lunga spero che a voi non siano andate via le orecchie a presto ciao ciao ciao